Nonostante l'emergenza sanitaria, il gruppo Grifo Agroalimentare sta andando avanti, non si ferma, oltre all'ampliamento dello stavimento di Ponte San Giovanni, giunge una nuova apertura in Toscana, a Bibbiena, il frutto di un progetto iniziato tempo fa. Noi avevamo già nella compagine sociale una struttura, una cooperativa del Casentino Toscano, quindi della Toscana, e a settembre scorso abbiamo incorporato il ramo d'azienda, nel ramo d'azienda c'erano anche due punti vendita, un punto presso lo stabilimento che sta a Talla e un punto vendita che sta a Bibbiena. È questo che abbiamo un po' ristrutturato, abbiamo rimesso in forma perché vogliamo farne una vetrina delle eccellenze, che in questo caso sono eccellenze toscane ed umbre. In quello stabilimento facciamo produzioni tipiche della Toscana, in particolare formaggi pecorini e misti, e in quel punto vendita abbiamo portato anche tutte le eccellenze del gruppo Grifo, quindi tutte le produzioni che facciamo in particolare a Norcia e a Colfiorito. Un modo per far conoscere uno stile di presenza, uno stile di produzione, uno stile di qualità, non è che ci aspettiamo chissà cosa da questi punti vendita, se non un'iniziativa perché i consumatori possano apprezzare le qualità diverse che esistono sul territorio, e in particolare in questo caso in due territori così con termini, così vicini, quali sono l'Umbria della Toscana. Stiamo ottenendo grandi successi e soddisfazioni lì, contemporaneamente con quei prodotti stiamo ottenendo grandi risultati sia in Umbria che nelle altre parti del paese. Questo ci dà molta soddisfazione e ci incoraggia proprio per andare avanti e sviluppare quell'attività. Grazie a tutti!